Iscriviti al canale e non dimenticare di cliccare sulla campanella per ricevere una notifica ogni volta che viene pubblicato un nuovo video. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre Pio, alba luminosa nel cielo delle anime, come il sole che risplende nel firmamento di questo nuovo giorno, ti invochiamo nel silenzio di queste prime ore. Svegliandoci dal sonno della notte, desideriamo risvegliare il nostro spirito alla presenza di Dio. E tu, santo uomo di Petralcina, sei la nostra guida e il nostro sostegno. Nel fresco della mattina, mentre la natura si risveglia e tutto sembra rinascere, vogliamo ricordare il tuo amore instancabile, il tuo servizio incessante e la fede indomabile. Hai vissuto ogni giorno come un dono e ci insegni a fare lo stesso, a vivere ogni momento in comunione con il Signore, accogliendo ogni sfida come un'opportunità di crescita spirituale. Guarda, Padre Pio, le nostre vite, spesso frenetiche e distratte, immerse nei rumori e nelle preoccupazioni del mondo. Desideriamo, in questa mattina, riconnetterci con quella pace interiore che solo la presenza di Dio può dare. Aiutaci a sentire nel nostro cuore il battito d'amore del Creatore, a sintonizzarci con il ritmo della vita che pulsa in tutto ciò che ci circonda. Ti presentiamo le nostre preoccupazioni e le nostre speranze, le nostre gioie e i nostri dolori. Conoscevi, o santo stigmatizzato, il peso delle sofferenze, le lacrime versate nella solitudine della notte, ma sapevi anche della gioia profonda che viene dal servire, dall'amare, dal donare. Insegnaci, allora, a trasformare ogni nostro dolore in preghiera, ogni nostro sforzo in offerta, ogni nostro momento in un atto d'amore. Guida i nostri passi in questo giorno, che possiamo essere luce per chi ci circonda, specchio della bontà divina, esempio di fede e di speranza. Che ogni nostra parola sia espressione di amore. Ogni nostro gesto, testimonianza di carità. Ogni nostro pensiero, elevazione dell'anima. Padre Pio, proteggi le nostre famiglie, i nostri amici e tutti coloro che portiamo nel cuore. Che la tua intercessione possa raggiungere anche coloro che sono lontani dalla fede. chi si sente perduto, chi è nel dolore e nella disperazione. Apri il loro cuore alla luce della grazia, all'abbraccio consolatore del Padre Celeste. Ricordaci nel corso di questa giornata, l'importanza del silenzio, dell'ascolto, della preghiera. Che possiamo trovare momenti per ritirarci nel nostro interno, per dialogare con Dio, per nutrire il nostro spirito con la sua parola. Infine, Padre Pio, mentre ci prepariamo a intraprendere le sfide di oggi, ti chiediamo di rinnovare in noi la fede, la speranza e la carità. Che sostenuti dalla tua presenza amorevole e dalla tua intercessione potente, possiamo camminare con passo sicuro verso il Signore, fonte di ogni benedizione e di ogni grazia. Con cuore grato e pieno di speranza, ti affidiamo questo nuovo giorno e tutti i giorni che verranno, sapendo che Tu sarai sempre al nostro fianco, guidandoci, proteggendoci e benedicendoci. Amen. Grazie a tutti.